Noi abbiamo discusso molto al nostro interno in questi mesi, mi pare che la proposta che va in aula sia il risultato di un lavoro che ha visto anche nel Partito Democratico un dibattito molto articolato e molto vissuto, quindi mi aspetto che si confermi ciò che è già stato fatto nei mesi scorsi, cioè di sostenere con impegno una riforma che è attesa tanti anni nel Paese e che oggi è la nostra parola.